Il Carpi spara alto per Filippo Porcari e il Pescara si tira indietro, almeno per il momento. Gli Emiliani per cedere il centrocampista hanno chiesto 400.000 euro più il prestito di un giocatore che potrebbe essere in prota acquisto ancora da perfezionare. I biancazzuri su queste basi non intendono trattare, ma potrebbero ripensarci tra qualche giorno. La società ha fatto una telefonata a Emmanuel Cascione, l'ex capitano ora in forza al Cesena. Il centrocampista attualmente all'estero in vacanza ha rimandato l'appuntamento alla prossima settimana, ma ci sarà da discutere con il Cesena. Ieri negli uffici del presidente Sebastiani è arrivato il procuratore di Birkir Bjarnason, Stefano Salvini. L'islandese non vuole rimanere a Pescara e bisognerà trovare una soluzione con l'Empoli pronto ad affacciarsi alla finestra. Oggi pomeriggio in città arriva l'agente di Mussacone dell'Atalanta. Il Delfino punta al prestito del centrocampista evoriano e vuole trovare subito l'intesa economica con il calciatore già in biancazzurro due anni fa. Su Cone però ci sono diverse squadre di Serie B e il club biancazzurro deve fare in fretta per sbaragliare la concorrenza. Ieri pomeriggio nuovi contatti con il Torino per il terzino Antonio Barreca. Il 19enne della primavera Granata piace molto al DS Peppino Pavone, ma non c'è ancora l'intesa per il suo trasferimento in prestito in rival Adriatico. Il Delfino vorrebbe prendere il prima possibile un laterale ed ecco che scala posizioni il mancino Lorenzo Venuti, anche lui 19enne della Fiorentina. Il Pescara lo vuole fortemente, però prima bisogna valutare le condizioni del giocatore, che qualche tempo fa si è infortunato alla spalla. Ancora nessun incontro tra la società e Antonio Balzano. Il giocatore rientrato dalle vacanze nelle prossime ore potrebbe vedere il presidente Sebastiani e l'amministratore delegato Gian Nascoli. I biancazzurri hanno proposto il rinnovo al terzino pugliese, ma non hanno ricevuto nessuna risposta e le sirene del Cagliari sono sempre più forti. Sempre viva poi la pista che porta al difensore Emanuele, Pesoli, ex Carpi. L'Empoli, sempre vigile su Luigi Sepe, il portiere che Pavone e Repetto vorrebbero regalare a Baroni. Il pressing del Delfino è forte, ma sono stati anche bloccati di Gennaro dell'Inter in pole position e Antonio Donnarumma del Genoa. Un altro Donnarumma invece ieri ha firmato un trennale con il Pescara. Si tratta dell'attaccante Alfredo Donnarumma, arriva dal Catania che verrà girato in prestito al Teramo. In uscita da registrare le cessioni in prestito all'Ischia di Ingretolli, Iannascoli e Bulevardi.